I cancelli della Bassanina si sono riaperti oggi, ma non per la ripresa dell'attività produttiva, bensì per dare la possibilità al curatore fallimentare di procedere con l'inventario e con le altre pratiche previste dalla procedura di fallimento. Sembra strano, ma questa per i 35 dipendenti dell'azienda di Mason Vicentino è una buona notizia. Darà loro infatti la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali. L'Ital prevede di per sé che per poter accedere a nuovi ammortizzatori sociali ci sia almeno una possibilità di un nuovo acquirente o di qualcuno che affitti o compri una parte della società. Fino a che l'inventario e tutte le procedure che la curatela deve fare non sono completate, anche la semplice messa in vendita non può essere messa in nato. Azienda fallita, perdita del posto di lavoro, azzeramento del reddito personale e ancora nessuna possibilità di accesso agli strumenti di cassa integrazione. Oggi i lavoratori sono scoperti da tutto. Le prime verifiche che abbiamo fatto anche con la regione non sono confrontanti in quanto escono da qualsiasi possibile copertura dal punto di vista sia attributivo che contributivo. Per i dipendenti è dunque fondamentale in questo momento che il curatore fallimentare abbia pieni poteri per poter mettere sul mercato l'azienda e cercare un eventuale nuovo acquirente. In modo da poter fare anche l'inventario dei beni e poter stabilire quindi quali sono le potenzialità anche di una possibile messa sul mercato dell'impresa.